ciao allora oggi vi voglio parlare di questo prodotto della Essence e camouflage 2 in 1 powder e mecca dice che ha un'alta coprenza instant matte long lasting il colore che io ho i 40 honey cercavo qualcos'altro ma direi che non c'è tanto la quantità è un 9 grammi l'ho pagato 3 euro e 95 e come vedete l'ho completamente finito e quindi ora c'è lo swatch allora cosa dire di questo prodotto che mi ha deluso tantissimo non sono riuscita a capire cosa era bene una cipria un cosa come cipria devo dire che non ha un effetto matte assolutamente no sulla mia pelle mista tendeva a lucidarmela nel giro di un paio d'ore soprattutto col caldo davvero una cosa tremenda alta coprenza no non è vero non copre assolutamente niente anzi attenzione a non mettere troppo perché tende a creare delle macchie sul viso quindi davvero non è un grande effetto long lasting no per le stesse cose che ho detto tende a far lucidare la pelle e tende a spostarsi e se la pelle si lucida quindi proprio non ho capito cos'è questo prodotto e non mi è piaciuto l'ho provata ad applicare in tantissimi modi con la spugnetta sia asciutta che bagnata con il piumino da cipria tamponando sul viso con un pennello sia asciutto che prima ed è applicato un attimo il fixplux il risultato non cambia sulla mia pelle mista questo prodotto proprio non mi è piaciuto e ho notato strano che quando dicono che è a effetto matte e rende subito opaco la pelle è una cosa che non fa mai se uso un prodotto normale va bene se uso un prodotto che dice di essere perfetto per macchie e opacizzare la pelle quindi da essere perfetto per la mia pelle mista ho notato subito che è una cosa che non trovo mai come effetto e resto sempre delusa quindi questo prodotto io ve lo boccio assolutamente ma voglio sapere da voi se l'avete provato come vi siete trovate e se anche voi pensate che sia da bocciare oppure no come sempre spero di esservi stata utile e vi do appuntamento alla prossima recensione beauty low cost se ti è piaciuto il video mettimi un like iscriviti al canale e mi raccomando anche sul mio canale clicca sulla campanella così non perderai le prossime recensioni e alla prossima ciao ciao